Allungare la striscia di risultati utili portandola a sei partite consecutive e possibilmente centrare la seconda vittoria stagionale, bissando quella ottenuta due settimane fa, sempre al comunale, contro l'Igia Virtus. E' questo l'obiettivo del Necattaro, la vigilia del delicato impegno casalingo con la Versa Normanna, che si presenta all'appuntamento con cinque lunghezze di vantaggio in graduatoria. Le motivazioni dei locali però paiono subito superiori a quelle degli ospiti, che partono contratti e subiscono l'iniziativa di Zotti e compagni. Proprio il capitano Rossonero è il primo a spaventare l'estremo difensore Cavaliere dopo una bella combinazione con De Lorenzo al quinto. Il copione si ripete al 26esimo quando ancora Zotti, sempre imbeccato da De Lorenzo, spara dalla distanza mancando di poco il bersaglio. Vista la scarsa fortuna in fase conclusiva, il fantasista si propone nelle vesti di uomo assist e il risultato, come si vede, è decisamente confortante. Benedetto Lorusso ringrazia e realizza di testa all'1-0 al 28esimo. La frazione si chiude con il tentativo al volo coraggioso ma sfortunato di Doria dal limite dell'area. Su servizio manco a dirlo del solito Zotti. Nella ripresa i campani spingono alla ricerca del pari e quasi riescono nell'intento al 19esimo. Buon per Musacco, rimasto fuori dei pali dopo un'uscita avventurosa, che Benedetto Lorusso sia appostato sulla linea di porta e possa respingere il pallonetto a colpo sicuro di Tovalieri. Nel momento migliore della versa aggiunge però il raddoppio del Necattaro. Zotti dalla bandierina pesca di nuovo Benedetto Lorusso al 22esimo, altro stacco vincente del centrale difensivo e palla in rete. Trascorrono appena due minuti e i locali dilagano. Questa volta il merito è tutto di piano, che firma un gol d'autore indirizzando la palla dove Cavaliere non può proprio arrivare. Fine dei giochi direte voi? E invece no, basta un attimo di rilassamento infatti per consentire agli uomini in maglia celeste di rifarsi sotto. L'1-2 piazzato dal nuovo entrato perna a cavallo della mezzora ammutolisce i pochi sostenitori noiani condannandoli a un finale da brividi. Per loro fortuna la paura di una clamorosa rimonta termina al quarantesimo quando Pistillo va in tilt sulla sponda aerea di De Lorenzo spedendo la sfera alle spalle del proprio portiere. Finisce 4-2, il Noe Cattaro intravede ora la luce in fondo al tunnel.